buongiorno sono gianfranco consulente nissan di gruppo carmeli oggi ti presento micra in allestimento a centa un'auto di segmento b dotata di un motore mille turbo tre cilindri da ben 100 cavalli un motore che concilia al meglio prestazioni e consumi questa vettura è dotata di pacchetti opzionali quali i fendi nebbia e il look pack con cerchi in lega da 16 pollici e vetri oscurati posteriori la sicurezza di serie comprende abs il controllo di stabilità e la frenata assistita oltre a 6 airbag a protezione degli occupanti all'interno il 5 pollici tft a colori permette di tenere sotto controllo le prestazioni e la pressione di ogni singolo pneumatico il volante di shade multifunzione è dotato di comandi audio cruise control e limitatori di velocità mentre il grande schermo centrale con radio dub integrata è dotato di tecnologia carplay micra è un 5 posti dalle linee aggressive ma non disdegna l'abitabilità per i passeggeri né tantomeno rinuncia ad un bagagliaio ai vertici per capacità se ti è piaciuto il video lascia un commento qui sotto o chiamaci allo 0 30 77 24 0 11 i nostri consulenti saranno a tua disposizione